Salve gente, sono Mandicube e vi do il benvenuto a... Midzol 2, un viaggio col pazzo doc. Per la cronaca, questa è già parte della mappa, ha incluso un trailer nella mappa. Tecnicamente parlando sto giocando. Sto zitto per i prossimi un minuto o due, così vi gozete bene il trailer. Per la cronaca, questa è già parte della mappa. Ed ecco finito il trailer Siamo nel museo della mappa in cui sono inclusi alcuni block models utilizzati e il trailer Torniamo allo spawn Per chi non l'avesse capito stiamo facendo la mappa Mizzle 2 di M.Laccus Vi metto link in descrizione sia al suo canale che alla mappa stessa L'obiettivo di M.Laccus era creare una serie di mappe in modo da mostrare tutte le novità degli aggiornamenti Mizzle 2 è dedicato alla 1.8 Se volete provare Mizzle che non era 1, era Mizzle normale perché c'era solo quella Sono tutte le novità della 1.7 Una piccola nota che per chi segue, per chi legge i commenti dei video saprà già Una delle novità della 1.8 è appunto la tag translate che permette di avere testi tradotti Già all'interno di un file di testo È stato usato in questo e quindi la mappa è disponibile in diverse lingue Fra cui l'italiano Ho voluto provare alcune come si era ben fatta E la risposta è che l'ha fatta credo uno spagnolo perché si è dedicato alla traduzione anche in lingua spagnola Ed è abbastanza un macello Si capisce tutto quello che viene detto ma definire l'italiano è un'altra cosa Purtroppo per voi ho chiesto nei commenti chi voleva che la facessi in questo italiano maccheronico Chi invece lo voleva in inglese poi tradotto da me E hanno vinto i fallo in italiano maccheronico Quindi vi toccherà questo La traduzione l'ha fatta questo Andre Wellison Che non c'entra nulla con Emlakus Semplicemente Emlakus ha chiesto chi aveva la voglia di tradurglielo E questo ragazzo chiunque sia Si è offerto di fargli lo spagnolo e l'italiano Non date quindi la colpa a Emlakus Emlakus ha fatto la mappa e ha fatto un lavoro straordinario Come ho detto ho già leggermente provato l'inizio giusto per vedere com'era l'italiano Ed è così Vi ho già trattenuti per fin troppo tempo quindi direi di cominciare il video Emlakus presenta Bizzol 2 un viaggio con il folle doc Che l'avete già visto prima nel trailer incluso nella mappa Si apre tutto Buongiorno E' come guardarsi in uno specchio Se avete la mia skin Chi chi sei e cosa ci fai qui Ah giusto è interattivo Non riesco a ricordare dove sono Ciao Dove sono Sei nel mio laboratorio e siete nella mia macchina Nella mia macchina clonazione cazzo Non sappiamo fare le preposizioni ma cazzo lo sappiamo Clonazione macchina Sono un clone Sarò la tua miglior clone Davvero non si può spiegare come sono arrivato qui Diciamo l'unica che è in italiano vero Mi piacerebbe davvero sapere Ehm fine Alert Il generatore di improbabilità infinita Ha raggiunto il suo limite critico di improbabilità Stiamo per morire Ok Questo può spiegare la vostra presenza qui Ehm perché? Qual è il generatore di improbabilità infinita? Questa è la cosa più improbabile del mondo Dunque fa esattamente quello che vi serve Logico Mi piace già il suo tizio Ma se il generatore non funziona correttamente come adesso Si può far saltare l'universo In aria credo Non credo che far saltare l'universo sia così grave La cosa più improbabile è Pensare di ragazze nude Cosa possiamo fare per evitare questo? Allora cosa stai facendo qui? Andate a spegnere la macchina Mi piace che si passa dal tuo a lei Ah no dal tuo al voi A lei anche Scegliamo la 1 per il vostro piacere Esattamente Half-Life 3 verrà rinascato domani E calamari giganti dominerà il mondo Odio calamari Perché odio calamari? Così ha intenzione di aiutarmi a chiudere questo generatore Afferra un comunicatore al petto e mi segue Afferra al petto Capitolo 1 Esplorare il laboratorio Comunicatore Ok Non posso saltare qua sopra Uffa Strane macchine Marche ingegni Quello non è un bosone Sono felice Sono felice di vedere che sai come usare questo comunicatore ma sono accanto a te Selve Doc Cloning machine status processing complete Attiviamo roba random 1 0 0 1 0 0 0 0 1 Temperature che stanno per esplodere Stabilità Questo non funziona Qua abbiamo un generatore lava Questo è Mizzol Un mondo falso in cui posso portare tutte le mie sperimentazioni più pericolose Quindi stiamo per far esplodere il suo universo Finto Tu cosa sei? Nulla Questo non va niente Pronto per aiutare la scienza? O avvertirvi? Può essere difficile Veso È possibile avviare controllando il livello dell'acqua nel sistema di raffreddamento Qual è il sistema di raffreddamento? Posso ballare sul tuo tavolo? Il codice nella prima stanza è davvero semplice Saltare sulle piastre di pressione Il sistema di reset se quando non sei su una lastra grigia Ok Quindi immagino di poter saltare solo su queste Parkour senza parkour Ok Prima prova Abbastanza facile Giusto per vedere se so giocare a Minecraft Credo Ok Quanto è lungo sto codice? Ti prego Sì ok Missione 1 completata Andiamo avanti Cumuli di carbone Ah giusto Ah giusto sono in adventure Non posso spaccare nulla Cumuli di carbone Ah giusto Nella mappa ci dovrebbero essere delle stelle del nether per sbloccare i livelli opzionali Vediamo se riesco a trovarle tutte Anche se dubito profondamente Ok penso di dover raggiungere quella cassa Immagino Ok missione fallita Uh belle le bollicine C'è qualcosa qua sotto Hit è bloccato a Qui penso che sia stato capopanzone ma non lamentiamoci Ok tiriamo questa leva Ho detto riempire il serbatoio Ho chiuso la valvola di scarico Quindi ora posso andare giù Aia Rotule No chiuso Water lever Mode manual Current 1080 Pic E qui credo sia non senso Ci sono dei bottoni Proviamo a premerli Questo accende due luci Questo Manipola quelle due Ok Questo Questo non fa nulla Fa piacere E questo non fa niente Ah ok Questo fa qualcos'altro Ma non è che abbia molto ben capito Sono al punto di partenza Credo signori Che dovrò andare a culo Per usare eufemismi Ah c'ero quasi riuscito Tre Oh qui andremo avanti Per dei secoli Ha funzionato Ho premuto i tastierandome Ha funzionato Ok l'acqua sale Si porta giù Quei tronchi Su cui posso camminare Beh questo è molto meglio Ma ancora non ho abbastanza Si può controllare Il generatore In probabilità infinita Per me Non ho idea Di cosa stai dicendo Ma va bene doc Bene Bene diamo un'occhiata A questo fantastico aggeggio Qui è ancora bloccato Andiamo su Qua c'era una porta Ah no giusto Qua c'era la cassa Sii Piccone d'oro Può rompere materia oscura Materia oscura Sono nella camera Serbatoio dell'acqua Dimmi cosa devo fare Trovare la stazione di controllo E provare a compiere il serbatoio A compiere il serbatoio Materia oscura è questa? Ok C'è una cassa qua sotto Con la nether Ho il piccone tanto infinito Quindi credo di poterlo usare Quanto mi pare Almeno quello Qui sopra c'è sto tunnel Che voglio andare a vedere cos'è Saltino No C'è il tetto troppo basso Proviamo così Ok Qua cosa c'è? Sii Ok Stella de nether Non so perché avvenga Il divieto all'inizio Si vede nel video Anche nelle altre stanze Allora Qua abbiamo Delle leve La morte Le leve Non posso premerle Non sono James Bond Se vado verso la morte Ah ok Torno qua Ok Non è la morte La morte è solo un nuovo inizio Albus di lente No probabilmente È una citazione Molto più vecchia E siamo qui Abbiamo Questa strana Teu Poi abbiamo Questa strana Teu Prosegue Ah ok Fatemi controllare una roba Spacco sti due blocchi Ah ok Se faccio cagate C'è un reset Per la stanza Proviamo a salire Anche perché Non credo di poter fare altro Tutte le altre stanze Sono bloccate E qui come ci dovrei salire Secondo tizio Fatemi resettare Che cavolo è successo Ah ok Devo fare così Spacco questo Abilità di parkour 10.003 Ok Due stanze Qua sopra Non c'è modo di andarci Lì c'è un affare rosso No Lì c'è un affare blu E qui uno rosso Qui c'è una scala Con del vetro E della strana roba colorata Ah e qui è un affare azzurro E se vado di qua La scala è andata Lì c'è una stanzetta Fatemi vedere se magari sono Ah e qua c'è Ah ok Sono o la stessa prova distinta O due prove diverse Qui come funziona Allora Il tappeto rappresenta il vetro Questa roba cos'è? Uh le lampade rappresentano il pavimento Posso andarci? Eh Ok rotula Ritrattino di emlacus Place a nether star to skip the level Ah giusto Ho anche quest'altra funzione Ma sono tirchio Questi cosa fanno? Uh mi spostano le piattaforme Quindi come posso fare? La scala è Lì Se io le ho messe così Posso fare saltino 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 molto lungo Saltino molto lungo Saltino saltino Ci dovrai riuscire Devo solo tornare su Allora sta a fare Sposta le cose Quindi lasciamolo in pace Si torna su così Si ok Che culo Aver trovato subito sta roba Se riesco Ah non c'è la rigenerazione della vita Non so perché Quindi probabilmente morirò a breve Amen Non credo che la morte sia un problema Ok Piano Ok Qui abbiamo il salto titanico Che probabilmente non riuscirò a fare Probabilmente No Mi sa che devo ancora spostare un pochettino le piattaforme Vorrei provare Dato che sembrano tutte fatte uguali A spostarle un po' più in Si sposta con questo Ok Cosa ho combinato? Allora Sti salti sono ancora fattibili Quello è molto più corto Quello è molto più corto Ce la dovrei fare Speriamo Ok Andiamo avanti Saltino di qua Saltino di qua Saltino dritto Perfetto Saltino dritto Sono già Ok Saltare su una piattaforma senza vederla È abbastanza un casino Ok Piano 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 Ora devo arrivare lì Ok E ora devo arrivare alla scala Stavo per cadere di qua Ok Ok E immagino C'è qualcos'altro? Vedro 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 Non vedo nulla Ok E tutto giro Intorno alla stanza Ok Dove sono? Ah è quella stanza con le due leve Però ora c'è un tenero passaggio per andare avanti Riuscirò a fallire nel parkour più semplice del mondo Si stavo per fallire nel parkour più semplice del mondo Ok Leva tirata Immagino di doverle tirare tutte e due Ah ok La stanza rossa La stanza del puzzle rosso sblocca il passaggio per andare alla leva rossa La stanza della roba azzurra dovrebbe sbloccarmi l'altra Sto per morire Sono quasi tentato di suicidarmi e vedere cosa succede Non credo che la mappa sia parkour Credo sia semplicemente puzzle E continuo a dire qualunque accento per parkour Parkour Tranne quello giusto Azzurro Avevo fatto la rossa giusto? Si Ok Sto volando Jack Allora Abbiamo Non posso spaccare qua perché c'è un blocco Ci sto camminando sopra Probabilmente c'è qualcosa Andiamo a vedere Allora qua c'è la piattaforma su cui stavo camminando Ah è la stanza di prima Ed esattamente in questo buco ci sono delle lampade di glowstone Ok Bucchiamo quella No Giusto per vedere dove sono Ok Poi ce n'è Di là è meglio O è simmetrico? Di là mi pare più vicino Due blocchi Uno Due Ok Di qua non c'è nulla Di qua c'è questo C'è un punto dove saltare Sì Lì in diagonale Innanzitutto controlliamo se sto dicendo cavolate se è vero quello che dico Ok Allora se i miei calcoli sono giusti Lì c'è una piattaforma Se i miei calcoli sono sbagliati cado verso la morte Piattaforma Ok Dovrei essere vivo La devo fare alla cieca Ok Lì ci arrivo Perfetto Salto Salto Altre piattaforme invisibili che mi tentano di uccidere No Stanza azzurra Ok Tutto giro intorno alla stanza di nuovo Ok Il parkour più semplice del mondo 2 Ovvero come fallire facilmente Ok Tiriamo la leva E si è aperto qualcosa Però non c'è più la strada in mezzo Ah probabilmente si resetterà in qualche modo Proviamo ad andare avanti Fatemi un attimo controllare il tempo Ancora qualche minutino ce l'ho Ok Si è ristabilito il continuo Un spazio temporale Con cui E con Anzi Prima voglio spaccare un po' di carbone Vedere se c'è magari qualcosa sotto Non vorrei che l'avesse nascosto qui Però è una roba No ok Il carbone l'ho spaccato Non c'è un cavolo Andiamo avanti Mi ha Credo mi abbia teletrasportato di colpo Credo Ah Devo arrivare lì Lì cosa c'è Perché c'è una scala messa lì così Voglio provare a arrivarci Il geronimo c'è stato benissimo Sarebbe andato un po' meglio se non fossi morto Comunque non credo di poter arrivare là Non so se avete visto ma il salto ha fatto abbastanza pena Un po' è stata colpa mia Ma non credo sia stato del tutto colpa mia Ok Saltino Proviamo almeno a arrivare lì Niente più geronimo Ok Dove devo arrivare? Oh lì c'è una porta Credo Proviamo a salire su st'affare Devo spaccare meno roba possibile Perché già prima ho visto che se spaccavo anche un solo blocco in più Posso arrivare fin lì sopra? Sì perfetto Sono un idiota Salto stupido Oh non ditemi che adesso non riesco più a fare sto salto Perché mi arrabbio Mi arrabbio con ciascuno di voi Non riesco più a fare sto salto Perfetto Ho perso la mia occasione Fallirò per il resto dell'eternità Ho un blocco sopra di me Per chi di voi mi sta guardando Secondo me sta cominciando a imparare bestemmie Che non pensava possibile Ok Se spacco questo blocco è l'apocalisse Sì probabilmente Oh Dai non posso fare sto fail Mi spiegate perché il primo salto è riuscito Tutti gli altri no? Niente non riesco più a fare sto salto Perfetto Chi se ne frega di non spaccare blocchi Proviamo a fare questo salto Ok Questo riesco a farlo ancora Perfetto Perfetto Saltiamo qua Non posso saltare Già visto prima che è un male non riuscire a saltare E andiamo avanti Sono nella stanza del generatore Ah questo è il generatore Ci sono tre piccole stanze accanto a questo Con tre torri Necessari per attivarli Non posso morire Non posso andare avanti Ci dispiace dock Ma non c'è spazio adiacente Credo in tenda che non ci sono altre stanze Dammi due minuti cercherò di trovarli Posso muovermi Posso andare avanti dock Non arrivare troppo vicino al generatore può essere pericoloso Grazie dock per avermelo detto in tempo Troppo tardi Quello che è successo Non sono più in un laboratorio Ma in un mix tra i laboratori È una grotta di granito Ma fa piacere che so cosa è il granito Puoi esplorare un po' Penso e spero E spero trattino che le torri di controllo sono in questa grotta Capitolo 2 Follia improbabile Più o meno il tempo è giusto Quindi direi di interrompere qui Ci vediamo al prossimo episodio E ciao a tutti